Gazza Freestyle è un collettivo nazionale che nasce dallo spazio sociale Lambretta di Milano nel 2014 e nasce con l'esplosione del freestyle all'interno della striscia di Gazza, quindi l'esigenza che ragazzi e ragazze avevano di esprimere se stessi attraverso la libera espressione, lo stile libero e quindi qualsiasi disciplina artistica, quale lo skate, i graffiti, la musica. Quello che è nato come risposta italiana e internazionale è stato quello di uno scambio culturale, quindi ovviamente nella difficile situazione della striscia di Gazza in cui anche solo avere degli skateboard o avere delle scarpe da indossare per poter praticare sport è difficile se non impossibile, per cui anche le attività di autofinanziamento portate avanti da dieci anni aiutano queste persone, i ragazzi dentro la striscia di Gazza a poter praticare il loro sport e potersi ricavare del tempo di svago. Uno dei progetti più importanti che stiamo portando avanti e che quest'anno a dicembre avremmo dovuto portare concretamente nella striscia di Gazza come la costruzione appunto della casa delle donne e quindi uno spazio sicuro per le donne e per i loro bambini. L'anno scorso è stato fatto il primo forum dedicato a questo spazio per le donne, quindi tre giorni di workshop e di dibattiti con appunto al centro la figura femminile assieme alla sua autodeterminazione perché quello di cui siamo convinte è che l'assistenzialismo e l'aiuto e il mutualismo possano essere estremamente importanti ma è necessario che l'emancipazione e lo sviluppo avvenga dall'interno. Purtroppo per quello che si sta continuamente ripetendo in questi giorni, da più ormai di 25 giorni, diciamo che questa possibilità sta svanendo e noi siamo comunque in contatto costante con gli amici e le amiche e l'associazione all'interno di Gazza che ripeto sono per sottolineare questa cosa più di 2 milioni di persone di cui il 70% ha tra i 10 e i 25 anni per cui potete immaginare l'esplosione di energia e di voglia di fare e di sopravvivere semplicemente in una situazione che permette esattamente l'opposto. Immagino ci sia un forte senso di impotenza, c'è tanti decenni per costruire qualcosa, dei barlumi di libertà e poi davvero poche settimane per far crollare tutto il castello. Sì, ad esempio in questi 10 anni il Gazza Freestyle Festival ha permesso di costruire due rampe da skate, una al porto di Gazza City e una invece con parametri olimpionici a nord della striscia di Gaza al confine con Israele e Erez e tutte queste possibilità che inizialmente parevano essere sogni e quello che appunto erano sono appunto distrutte dai continui e ripetuti attacchi da parte di Israele e la popolazione in questo momento noi appunto li stiamo contattando per quello che riusciamo perché la connessione è totalmente assente ma cerchiamo semplicemente di supportarli da lontano, quella è l'unica cosa che possiamo fare purtroppo sì il senso di impotenza come diceva è tantissimo di fronte a una situazione in cui soprattutto dalla parte opposta del mondo, cioè l'Occidente dove viviamo noi in Europa la narrazione che viene dettata è unica e unilaterale, non valuta e non ammette più contesti rispetto a questa situazione che appunto non è nata purtroppo il 7 ottobre ma nel 1948 con l'esilio di migliaia di palestinesi.